Ciao a tutti, oggi vorrei presentarvi un esercizio energetico da fare le mattine e quando ci alziamo dura appena 5 minuti, è una ginnastica ormonale tibetana che in grado di, così dicono i monaci tibetani, se fatta tutti i giorni, di riportarci dietro nel tempo, quando avevamo i nostri 20 anni. Allora, cominciamo subito questi esercizi brevi che possono essere fatti subito dopo che ci siamo svegliati. Possiamo stare anche a letto. Allora, prima cosa riscaldiamo le nostre mani con un movimento di frizione. Scaldiamo bene, fino a quando le nostre mani non diventano calde. Calde, le poggiamo sugli occhi, sui nostri occhi e facciamo 30 pressioni, una al secondo. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Manteniamo ora le nostre mani davanti agli occhi e trasmettiamo energia e calore agli occhi per altri 10 secondi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scaldiamo nuovamente le nostre mani con frizione e questa volta le mettiamo appoggiate alle nostre orecchie e facciamo altre 30 pressioni. e 30. Scaldiamo ancora le mani e questa volta prendiamo la mano destra, la poggiamo a un lato della fronte, la mano sinistra sopra e facciamo da tempia a tempia sempre 30 passaggi. Ogni andata e ritorno è un passaggio per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 29 e 30. Scaldiamo ancora le mani e questa volta stringiamo i pugni e facciamoci questo massaggio energetico sul viso dal mento fino alle tempi circolare sempre 30 volte. e 30. Ora riscaldiamo ancora le mani, mano sinistra davanti alla tiroide e con la destra facciamo questo movimento sempre 30 volte. andata e ritorno. e 30. Tutti i movimenti molto semplici che potete fare a letto. Mano destra ora davanti all'ombelico, mano sinistra sopra la mano destra facciamo 30 movimenti rotatori, senso orario. 29, 30, ora mettiamo le mani in questa posizione e facciamo muovendo soltanto le braccia 30 movimenti indietro. 30. E poi 30 laterali. E poi 30 laterali. 4, 5, 6, 7. Stiamo rimettendo in circolo la nostra energia. Fatto 30 volte questo esercizio. Ci mettiamo sdraiati, stiamo sempre a letto. alziamo le gambe e le mani e facciamo questi movimenti, ruotiamo i polsi e le caviglie. 30 volte. Fate queste rotazioni. Facciamo questo esercizio un po' buffo ma che serve molto per riattivare la circolazione del sangue e quella energetica. con tutta la forza che abbiamo facciamo questo movimento. Scuotiamo tutto il corpo. Bene. Ritorniamo su e questa volta cominciamo a massaggiarci nella pianta del piede. cominciamo un po' di coccole. Continuiamo le coccole. Abbiamo massaggiato il viso, il tronco, la parte davanti. Abbiamo messo in movimento le braccia, le gambe e l'attività cardiaca. Ora proseguiamo massaggiando i piedi. L'altro piede. Tutti questi esercizi li potete fare benissimo sul letto o su un tappetino. è importante farli però tutti i giorni, la mattina. Massaggiati i piedi ci stendiamo con i piedi e facciamo un massaggio energetico sulle gambe, seguendo il senso di direzione dell'energia. quindi esternamente verso i piedi, internamente verso il bacino per 30 volte. prima tutte le gambe e per finire voi li fate 30 e io ne fate un po' di meno soltanto sulla parte alta sulle cosce. benissimo. Questi erano gli esercizi semplici, facili, che tutti possiamo fare la mattina e che secondo i modaci tibetani restituiranno al nostro organismo benessere, salute e anche tanti anni indietro. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!